Allora, la cultura rende liberi, lo dice Epiteto, un greco antico, e è inevitabile quando senti questa domanda, la prima reazione è che meraviglia, la seconda è però liberi la cosa, la terza è cos'è la cultura? La cultura è tante cose, ad esempio sapere che ricordare, una parola molto bella però ha un'origine profonda, una radice profonda, ricordo è riportare indietro al cor, dal latino, nel cuore cose che non ci sono più, persone amate, quelli che si sono sacrificati per noi, quelli che ci hanno dato degli insegnamenti, oppure sapere che desiderio ha a che fare con il sidus, con le stelle, e allora non è solo desiderare cose materiali, c'è qualcosa di più, puoi alzare la testa, già nelle parole trovi questa cosa qui, ma una cosa che risponde a tutte e due le domande è che cultura, deriva dal latino cultura, da coltivare in Veneto rimane uguale, cultura, cultura, per cui noi non abbiamo mai perso questa cosa, e cultura risponde su tanti interrogativi, ad esempio a cosa serve la cultura? E serve anche a darti il pane, serve a renderti libero, libero da cosa? L'ignoranza, se pensi che la cultura costi tanto, hai provato con l'ignoranza, costa il triplo, guarda cosa sta succedendo adesso, e la cultura poi anche ti dice un'altra cosa, che è fragile, è come il lavoro del contadino, che ogni giorno devi lavorare con fatica, ogni giorno, perché la cultura, la cultura aumenti e ti aiuti, ed è questo l'obiettivo finale, a capire qual è il tuo posto in una società, qual è il tuo ruolo, qual è il tuo talento in quella società, questo ti rende libero, e questo ti dà il pane, in un certo senso, per cui la cultura diventa fondamentale, non è una cosa da buttare via, è il nucleo di quello che sei, però è anche fragile, perché è un lavoro faticoso, quotidiano, Erasmo da Rotterdam scriveva, a cosa serve la cultura? A impedire che a teatro un sasso sieda sopra un altro sasso, per portarla a oggi, a cosa serve la cultura? A impedire che quando ti guardi la televisione o il computer, un poltrone sieda sopra una poltrona, se mi passate il pessimo gioco di parole, ma rende l'idea, a questo serve a essere attivi e a muoversi, e a sapere che dall'ingiustizia ci si può difendere, ad esempio, a questo, visto che è il 21 marzo del 2021, ed è la 26esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti, delle mafie, 26esima era scritta in numeri romani, però ho la cultura e l'ho letto. Vorrei cominciare io a ricordare alcuni delle vittime che ci hanno lasciato qualcosa. Bernardino Verro